allora ho rubato no poi glielo rendo e glielo rendo a pietro per sistemarlo un pochettino un midland 77 861 e poi ho detto come lo provo che non c'è l'antenna ci ho messo a cinque minuti a farmi il dipolo a lei il cambio no ascolto di tutto ascolto di tutto sui canali dal 21 in su ascoltavo dei brasiliani ma proprio che con una potenza tale che li sentivi per due tre canali di fila lo stesso a te il cambio la propagazione della madonna propagazione a 360 gradi molto molto forte va bene se è sufficiente quello passaggio il tempo oppure devo parlare al cuore di imparare qualche negativo negativo mi saluti la signora la qsl per favore no via burro è no via burro se vuoi la qsl allega 5 euro grazie va bene ti manderò il contributo spese però secondo me 3 euro e 5 siamo un po' esagerati tutto con il trussole perfetto con il trussole il dipolo di polo funziona peccato che mi tocca darle indietro vabbè ok 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 Grazie.